Commercio ha rinnovato il contratto nazionale per i 400.000 dipendenti delle imprese aderenti a confesercenti. 85 euro di aumento, flessibilità, classificazione e mercato del lavoro, i punti cardine dell'intesa. Sottoscritti i protocolli su bilateralità e aperture domenicali e festive. Raineri, un buon accordo, rimane da completare il percorso per gli addetti della grande distribuzione organizzata e della distribuzione cooperativa. Contratti, l'appello di CGL Cislewil a governo e imprese, 12 milioni lavoratori in attesa del rinnovo, urgente garantire la crescita dei salari e nuove tutele normative. Furlan, creare un nuovo paese che trovi nel lavoro e nella contrattazione la sua centralità. Ammortizzatori sociali, naspi, voucher e politiche attive, sindacati in audizione alla Commissione Lavoro della Camera dei Deputati, sollecitano interventi strutturali a sostegno dell'occupazione. Canon Italia, siglato il nuovo integrativo per i 630 addetti, relazioni sindacali, organizzazioni del lavoro, formazione, salute e sicurezza, agli elementi qualificanti del contratto, l'impegno a definire la normativa sul lavoro agile e welfare, demurtas e relazioni sindacali consolidate e volte all'innovazione. Metro Italia, raggiunta l'intesa sulla mobilità con il gruppo del cash and carry, incentivi all'esodo volontario fino a 50 mila euro e riorganizzazione dei punti vendita di Mister Bianco, Bari e Verona, l'ipotesi di accordo all'esame delle assemblee dei lavoratori. Mobilità Unieuro, siglato l'accordo sul contratto di solidarietà per 312 addetti, riduzione media dell'orario di lavoro del 24%, incentivi all'esodo fino a 12 mensilità, contestuale il piano di rilancio del retail, C8 verso la progressiva riduzione degli esuberi. Con la nostra rubrica dai territori faremo tappa in Veneto, Toscana, Lazio e Puglia. Bentornati al TG Lab, buone notizie per i dipendenti delle imprese del terziario distribuzione e servizi aderenti alla Confesercenti. I sindacati di categoria Fisasca Cisle, Filcan Cigelle e Wiltux hanno siglato con l'associazione imprenditoriale il rinnovo del contratto nazionale di lavoro, i dettagli nel servizio di Paola Mele. Arriva due anni e mezzo dalla scadenza il rinnovo contrattuale per i 400 mila addetti delle imprese commerciali aderenti alla Confesercenti. Salario, flessibilità, classificazione con l'introduzione dei profili professionali del settore ICT e del settore auto, mercato del lavoro e potenziamento del livello decentrato sono i punti cardine dell'intesa che riconosce ai lavoratori un aumento economico di 85 euro al regime al quarto livello, oltre ad un importo a titolo di una tantum di 290 euro per sanare il lungo periodo di carenza contrattuale. Al fine di favorire l'inserimento o la ricollocazione di soggetti svantaggiati viene prevista per le aziende con carattere sperimentale per la vigenza del contratto la possibilità di stipulare contratti a termine di 12 mesi. Le parti hanno anche sottoscritto un protocollo d'intesa che demanda al secondo livello di contrattazione la possibilità di concordare 12 chiusure annuali, domenicali o festive. In considerazione dell'intensificazione dei picchi di lavoro per le località turistiche viene inoltre demandata a livello decentrato la possibilità di stipulare accordi sull'attivazione dei rapporti di lavoro a termine, riconducibili alla stagionalità ed esclusi dalle limitazioni quantitative previste dalla normativa vigente. Tra gli altri punti qualificanti il protocollo sulla governance della bilateralità di settore e il welfare contrattuale con la conferma del capitolato riferito all'assistenza sanitaria integrativa. Soddisfazione in casa Fisasca del rinnovo contrattuale sottoscritto con la Confesercenti rappresenta una svolta per le lavoratrici e i lavoratori del settore commerciale ai quali finalmente viene riconosciuto un congruo incremento salariale e un avanzamento della normativa in linea con le intese già raggiunte nel comparto dichiarato il segretario nazionale della categoria Ferruccio Fiorot. L'intensificazione del confronto negli ultimi mesi ha consentito di dare un senso a relazioni sindacali improntate al dialogo e alla costruzione di un moderno e innovativo impianto normativo, ha aggiunto il segretario generale della Fisasca Tapierangelo Raineri. Auspichiamo che con l'accordo si possa completare il percorso dei rinnovi contrattuali nel comparto del terziario distribuzione e servizi, dove rimangono da siglare nuovi contratti con la Feder Distribuzione e le associazioni del sistema Coop per i 500 mila addetti della grande distribuzione organizzata e della distribuzione cooperativa, ha concluso il sindacalista. Sono complessivamente 12 milioni gli italiani in attesa dei rinnovi dei contratti di lavoro. CGL Cisle Will, in occasione dell'attivo unitario dei quadri e dei delegati, hanno rilanciato sulla necessità di tutele e nuovo salario per tutti i lavoratori ed hanno chiesto al governo la convocazione immediata per definire il contratto del pubblico impiego e dall'impresa un'assunzione di responsabilità per giungere ai rinnovi. Le tre confederazioni hanno annunciato il proseguo della mobilitazione fino a settembre, quando un nuovo attivo farà il punto dei tavoli aperti, chiusi e di quelli conclusi. La contrattazione è indispensabile per la crescita del Paese e che già oggi abbiamo oltre 8 milioni di lavoratori e di lavoratrici con i contratti scaduti, alcuni anche da anni, in modo particolare gli oltre 3 milioni di lavoratrici e lavoratori pubblichi che è 7 anni che non hanno il contratto. Se poi guardiamo ai contratti che scadranno in questi prossimi mesi, da qua a dicembre, avremo 12 milioni di lavoratori e di lavoratrici in attesa del rinnovo contrattuale. Sentiamo troppa poca attenzione, dalle parti datoriali ma anche dalla politica, rispetto alla centralità del contratto nazionale. Si vuole quasi contrapporre la contrattazione di prima e di secondo livello, una cosa assurda. In un Paese di piccole e medie imprese noi dobbiamo allargare la contrattazione di secondo livello. Ammortizzatori sociali, naspi e lavoro stagionale, voucher e politica attiva sono stati gli argomenti dell'audizione concessa ai sindacati confederali dalla undicesima Commissione Lavoro della Camera dei Deputati. Sugli ammortizzatori sociali la Cisla ha in particolare sollecitato il rifinanziamento finalizzato a prolungare l'intervento nelle aree di crisi complesse, oltre che la revisione della normativa sulla Naspi, che nell'attuale formulazione comporta la drastica riduzione delle tutele reddituali e contributive per i lavoratori stagionali. La Cisla ha anche sottolineato la necessità di ricondurre l'utilizzo dei voucher lavoro alle attività realmente accessorie ed occasionali, stigmatizzando sull'esonero del settore agricolo dagli interventi sulla tracciabilità. Sulle politiche attive, l'AMPAL, la Confederazione di Viapò, ha evidenziato i ritardi di attuazione del Jobs Act e ha sollecitato il potenziamento dei centri per l'impiego anche attraverso la riqualificazione e la stabilizzazione del personale. Ad un anno dall'avvio dei negoziati, i sindacati di categoria hanno siglato con la direzione di Canon Italia il nuovo contratto integrativo applicato agli oltre 630 dipendenti. Con l'intesa vengono armonizzati i trattamenti economici e normativi riconducibili al contratto nazionale del terziario e distribuzione e servizi confcommercio. Relazioni sindacali, salute e sicurezza, formazione, reperibilità e sistema primeante sono i punti cardine del nuovo contratto che impegna anche le parti a definire la normativa sul lavoro agile e welfare aziendale. Dopo la pausa estiva verranno indette elezioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie. La Fisaskat ha commentato positivamente l'intesa il nuovo contratto consente di guardare alle prossime contrattazioni in un quadro di ritrovate certezze sia per quanto riguarda i diritti che le tutele sindacali ha dichiarato il funzionario della categoria Marco De Murtas. Si è conclusa con un accordo sull'esodo volontario incentivato la procedura di mobilità avviata per 168 full-time equivalent dichiarati dal gruppo del cash and carry Metro Italia in 14 negozio della rete vendita in Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia e Sicilia. L'intesa all'esame dell'Assemblea dei Lavoratori contempla la ristrutturazione delle tre filiali di Mister Bianco a Catania, Bari e Verona prossima alla trasformazione in casa dell'Oreca con la chiusura anticipata del contratto di solidarietà. Fino al 31 luglio i lavoratori potranno aderire alla mobilità volontaria ed accedere al percorso di incentivo all'esodo fino a 50.000 euro. Entro il 23 luglio si svolgeranno incontri a livello territoriale di filiale sull'organizzazione e sull'orario di lavoro che dal 1 agosto passerà a regime a 38 ore settimanali. La procedura di mobilità avviata dalla catena di distribuzione di elettronica di consumo a 1 euro per 64 esuberi si è conclusa invece con l'intesa sul contratto di solidarietà. La riduzione media dell'orario di lavoro del 24% coinvolgerà per 12 mesi 312 dipendenti di 16 unità produttive in Basilicata, Calabria, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sardegna e Valle d'Aosta. L'accordo contempla anche un incentivo all'esodo fino a 12 mensilità per i lavoratori che non si opporranno alla mobilità durante la vigenza del contratto di solidarietà. Per la nostra rubrica dai territori, prima tappa in Veneto. A Mestre si è svolto il coordinamento interregionale Fisascat Veneto e Friuli Venezia Giulia dei delegati degli istituti storici del comparto della vigilanza privata. La Sise ha approfondito i contenuti della piattaforma unitaria di rinnovo del contratto della vigilanza privata e dei servizi fiduciari presentata nelle scorse settimane dalle federazioni nazionali di categoria Fisascat, Filcams, Wiltux e ora all'esame delle assemblee dei lavoratori in tutta Italia. All'iniziativa ha preso parte anche il segretario nazionale della Fisascat, Vincenzo Dell'Orefice. Questa iniziativa è finalizzata ad accrescere la conoscenza e la consapevolezza sull'attività di contrattazione, essenzialmente volta a contrastare il crescente fenomeno di dumping contrattuale, purtroppo frequente nel settore della vigilanza privata. Hanno dichiarato Maurizia Rizzo e Adriano Giacomazzi delle due segreterie regionali Fisascat Veneto e Friuli Venezia Giulia. Tappa in Toscana, ad Alto Pascio, comune della provincia di Lucca, i sindacati di categoria Fisascat, Filcams, Wiltux hanno indetto un'ora di sciopero, l'ultima ora di ogni turno di lavoro dei dipendenti della PAM del Turchetto. Protesta contro l'esubero e il trasferimento annunciato dalla direzione aziendale in seguito alla proclamazione dello stato di agitazione del personale senza certezze sul futuro del punto vendita. È inaccettabile che a solo un mese dall'ultimo confronto con i sindacati l'azienda agisca in maniera unilaterale, manifestando così il totale disinteresse non solo a raccogliere suggerimenti di chi in quel negozio lavora tutti i giorni e conosce quindi criticità e necessità, ma anche a trovare soluzioni condivise a partire da eventuali trasferimenti volontari. hanno stigmatizzato le tre sigle sindacali in un comunicato congiunto. A Grosseto i sindacati di categoria FISASCA CISLE e FILCAM CGL insieme alle rappresentanze sindacali hanno siglato con la direzione di Riva del Sole SPA di Castiglione della Pescaia il nuovo contratto integrativo di secondo livello applicato ai dipendenti del villaggio turistico. Sistema premiante, salute e sicurezza e flessibilità finalizzata all'allungamento della stagione lavorativa sono gli elementi qualificanti dell'intesa triennale che interviene anche sul welfare contrattuale con l'estensione dell'assistenza sanitaria anche ai lavoratori stagionali sul welfare aziendale con il formale impegno a definire un intervento in linea con le recenti norme introdotte con la legge di stabilità. L'accordo raggiunto assicura la continuità del premio aziendale e consente di estendere le tutele contrattuali anche ai lavoratori stagionali che potranno in regime di flessibilità allungare la stagione lavorativa con possibili benefici anche sul trattamento Naspi ha dichiarato il segretario generale della Fisaskat di Grosseto Alessandro Gualtieri. Tappa nel Lazio a Viterbo il direttivo della Fisaskat ha eletto Aldo Pascucci nuovo segretario generale della categoria Cislina al neo eletto segretario e ai colleghi di segreteria Barbara Gemma De Julio e Guido Calai i migliori auguri di buon lavoro. Tappa in Puglia a Lecce sono tornati a protestare davanti alla prefettura ai 120 lavoratori della società partecipata della provincia Alba Service senza stipendio da circa un anno a riaccendere i riflettori sulla complicata vertenza alla Fisaskat di Lecce che in un comunicato ha stigmatizzato la mancata attuazione degli accordi assunti da governo regione e provincia a fine aprile. I dipendenti sono tutti alla canna del gas bollette scadute mutui da pagare e soprattutto servizi essenziali non eseguiti ha dichiarato Alessandro Monosi della categoria Cislina abbiamo accettato la sottoscrizione dei contratti di solidarietà con una riduzione dell'orario di lavoro del 45% quindi sacrifici su sacrifici ma ad oggi nulla è cambiato neanche per i 30 assistenti sociali ha concluso il sindacalista. Prima di salutarci un messaggio di cordoglio e solidarietà rivolto ai familiari delle vittime del tragico incidente ferroviario in Puglia che ha costato la vita a 23 persone e provocato 52 feriti. Vi ricordiamo che è possibile consultare il TGLab anche su TGR Lab Facebook e Youtube e che potete seguire le notizie in tempo reale su Twitter e Fisaskat per segnalazioni e suggerimenti potete scriverci all'indirizzo mail redazione TGLab chiocciola Fisaskat.it grazie per essere stati con noi e arrivederci alla prossima settimana la Fisaskat CISL tutela i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori del terziario turismo e servizi garantendo l'assistenza nelle vertenze collettive e individuali e nelle procedure di conciliazione e arbitrato stabilite dalle norme di legge e dei contratti la Fisaskat CISL attraverso la contrattazione sostiene la bilateralità cioè il modello partecipativo nel sistema delle relazioni sindacali che interviene in supporto del welfare pubblico per l'assistenza sanitaria integrativa la previdenza complementare e la formazione professionale continua all'indirizzo www.fisaskat.it troverai tutti i riferimenti per metterti in contatto con le oltre 120 sedi territoriali regionali e interregionali alle quali potrai rivolgerti per chiedere informazioni e per ogni pratica relativa al tuo rapporto di lavoro nel terziario turismo e servizi la Fisaskat insieme alla Felsa CISL ha dato vita alla FIST la federazione italiana dei sindacati del terziario per sviluppare una tutela a 360 gradi per i lavoratori dipendenti autonomi atipici e somministrati la Fisaskat la Felsa e la FIST sono il tuo sistema di tutela grazie a tutti i riferimenti grazie a tutti i riferimenti grazie a tutti i riferimenti Grazie a tutti